Sono Valide Posella, sono il Presidente della Cooperativa Media, un'agenzia formativa operante sulla mezzaterna. Nell'ambito dei nostri dibattiti con i collaboratori è emersa la necessità di fornire un'occasione di dibattito in merito al codice del terzo settore e quindi abbiamo deciso di effettuare questo evento gratuito per imbastire un primo dibattito in merito e perciò i nostri collaboratori e il PLL, nello specifico il collaboratore Antonio Mangiafave, daranno il loro contributo sulla conoscenza, sullo stato d'attuazione di questa riforma del terzo settore e insieme potremo vedere quali sono le cose che possono emergere dal territorio, quindi da chi effettivamente dovrà proprio agire con questo nuovo codice. Quindi siamo felici di invitare le persone che possono essere interessate a questo dibattito, a capirci insomma un pochino di più. Noi ci troviamo in via Enrico Toti 89A alla mezzaterna, termine, ci potete trovare tramite la Et Media SCRL su Facebook o su Twitter e siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione. In più, siccome abbiamo un'aula abbastanza capiente, però sempre con dei numeri limitati, invitiamo le persone interessate a manifestare prima tramite email, la troveranno tutto sul sito www.media.it, cercare di prenotarsi per dare un servizio insomma senza disagi o con meno disagi possibili. Grazie. Grazie.